Si chiama botrite ed è un fungo parassita aerobico, ossia che si sviluppa in presenza di ossigeno e polifago, cioè che può attaccare piante diverse. Ma le sue vittime preferite sono frutti, germogli e foglie, un parassita ben conosciuto dai viticoltori alto tesini che lo combattono da sempre. Ultimamente però qualcosa è andato storto e parecchi coltivatori dell'oltradige prevedono perdite nella resa che in certi casi, come nella zona di Andriano, potrebbero arrivare all'80%. La responsabilità sembra cadere su un prodotto antiparassitario acquistato in Germania e già utilizzato e conosciuto dai coltivatori locali. Quest'anno però, quanto sembra, avrebbe svolto molto male la sua funzione e sarebbe il principale responsabile dell'interruzione della fioritura delle piante e della conseguente perdita del rendimento. La vendemmia 2015, insomma, per molti produttori si prospetta disastrosa, specialmente per alcune qualità di bianchi come Gewürztraminer, Chardonnay e Sauvignon Blanc. E adesso che si fa? Adesso facciamo i controlli e poi siamo sempre anche in discorso con la ditta che vende questo prodotto. L'unica cosa che è costante in tutti questi casi dove ci sono i problemi è questo prodotto antipotritico e per questo cerchiamo ad essere in questa fase, guardiamo soprattutto questo prodotto e facciamo gli analisi e così poi in questa settimana speriamo che anche la ditta dà una risposta su tutte queste domande. Serbero migliaia gli ettari colpiti da questo fenomeno finora sconosciuto dai coltivatori alto tesini e nella prospettiva di forti perdite nella vendemmia di quest'anno si pensa già a chi paga i danni. Se troviamo la colpa di questi problemi in questo prodotto la ditta normalmente deve pagare o l'assicurazione della ditta. Se non troviamo il fattore responsabile tutto è un po' difficile da valutare. Ma alla fine il contadino ha un danno e questa è la cosa male.